Gimma la morgia, si la morgia, eh Gimma lo che stanno in balcatura fa. E quando c'è la nebbia anche sulla morgia non ci si vede niente. Dai dai, metto a fronte. Poi lo vediamo se va fatto bene, se non lo facciamo rilevare, lo facciamo togliere. Se è bella lo facciamo stare, va bene? La morgia è un monumento natural in the Abruzzo mountains of Italy. Recentemente, un sculptor crowned it with a work of art that can be seen for kilometers. Il sculptor è Costos Vorozzos, un artista nomadico di Grecia. Il funziona in grado per portare a legge quello che normalmente è invisibile. L'immagine di Deca. L'immagine di Deca. I live in this mountain for quite six months and I couldn't think nothing else. There were a lot of moments here that I thought that the motor don't want me. It's a kind of alchymia, no? Alchymia. When you try to put together several elements, the right choice of the material, the right choice of the dimension. Do you know what does Agalme, Scalpso in ancient Greek means? Something with which the gods are quite pleased and quite satisfied. Very, very content, sentimentally and spiritually content. Agalume. So wait. So wait. So wait. If you're thinking about the end of the video, it's a good day or day. Grazie a tutti.